Però allora parliamo di questa prescrizione perché adesso vedremo a che punto si arriverà. L'Italia conta 3 milioni di processi ed essendo un sistema piramidale c'è una Cassazione, ci sono 26 corti d'appello, ci sono 139 tribunali. Qualcuno dice ma non conveniva introdurre la sospensione della prescrizione dopo il primo grado ma con una riforma strutturale dell'intero sistema? Certo, ma infatti la cosa, qui stiamo parlando di squilibrati, quindi quelli che dicono a Bonafede se blocchi la prescrizione dopo il primo grado poi i processi durano in eterno. Bonafede ha presentato a giugno, quando era ancora al governo con Salvini, una legge che stabilisce tempi fissi per il primo grado, per l'appello e per la Cassazione e sanzioni disciplinari per quei magistrati che non rispettano quei tempi nel caso in cui l'allungamento dei tempi sia dovuto a colpa del magistrato e non a manovre dilatorie della difesa. Salvini ha detto no, prima blocchiamo la blocca prescrizione e poi facciamo questo, perché? Perché dobbiamo dare tempi certi ai processi e l'altro gli dice ma se ti sto dando adesso i tempi certi processi, me l'approvi adesso, la blocca prescrizione vale per i reati dal primo gennaio, cioè per i processi che si celebreranno fra tre anni, perché io se delinco il primo gennaio e vado a fare un borseggio, poi mi devono prendere, fare le indagini, rinviarmi a giudizio, fare il primo grado, quando si arriva a sentenza a tempo medio tre anni e mezzo, se mi beccano subito, o meglio se mi beccano, a quel punto dopo la sentenza di primo grado, cioè nel 2003 verso la fine, la mia prescrizione è bloccata e io sarò il primo caso di imputato con la prescrizione bloccata, quindi hai voglia in tre anni e mezzo prima che si veda il primo processo con gli effetti della nuova norma, se non c'è il tempo di fare la buona fede, e invece il PD e Renzi stanno bloccando esattamente come Salvini la riforma che dà tempi certi ai processi, perché? Perché in realtà a loro di abbreviare i processi non gli ne frega niente, è un pretesto perché a loro l'unica cosa che interessa è fare in modo che chi delinque dal primo gennaio continui ad avere la prescrizione assicurata, perché? Perché sono pieni di imputati e di condannati e di lobby che spingono, tra cui quella degli avvocati e quella della confindustria e delle banche. Però Alessandra Dolci oggi sul fatto quotidiano che procura giunto di Milano, dice che potrebbe velocizzare questa cosa il primo grado, essendoci ancora prescrizione, ma potrebbe dilatare molto l'appello perché uno dice tanto non scade più, me la prendo comoda. Questo rischio c'è o non c'è? Perché lei dice che è una sfida importante soprattutto per i magistrati. Certo, e infatti per questo ci vuole la seconda legge buona fede che stabilisce quanto può durare al massimo un processo prima che il magistrato sepoltrisce ne risponda davanti al CSM. Quindi il PD e Renzi se vogliono veramente tempi più brevi per i processi dovrebbero approvare subito la legge buona fede che contingenta i tempi dei processi anziché chiedere di bloccare la legge che è già in vigore e che dal primo gennaio comincia a bloccare le prescrizioni. Per non far cadere questo governo che potrebbe cadere su questo tema il governo, secondo te buona fede ha un margine per concedere qualcosa al PD e a Matteo Renzi? Io spero che non conceda nulla perché quello che vogliono lo so benissimo. Vogliono che la prescrizione continui a falcidiare come ogni anno 120 mila processi, a mandare assolti o meglio prosciolti 150-200 mila colpevoli perché i processi spesso hanno più di uno o due imputati, perché hanno un sacco di gente da salvare. Quindi io mi auguro da cittadino che la prescrizione contro i miei interessi, ammesso che i miei interessi siano quelli di mandare in prescrizione i miei processi, da cittadino mi auguro che buona fede non ceda e che porti avanti sia la legge che è già legge, quella che blocca la prescrizione per i dati del primo gennaio, sia quella che contingenta i tempi dei processi e che non dia retta a questa manica di impuniti. Dopodiché se questa manica di impuniti che si chiama Renzi e parte del PD vogliono mettere in crisi il governo sulla prescrizione, io li voglio vedere a fare una campagna elettorale al termine della quale vincerà Salvini, in cui spiegano ai loro elettori che 25 anni di battaglie contro la prescrizione che ha salvato Berlusconi nove volte, Moggi, Previti in un paio di processi, Andreotti per mafia, processi per omicidio per eternit, per omicidio colposo, processi per quella povera bambina che tentarono di stuprare eccetera eccetera, che quei 25 anni di battaglie erano pura finzione perché loro facevano finta di combattere la prescrizione e adesso che finalmente la si fa finita con la prescrizione loro la vogliono ripristinare. Tu dici che agevola questa cosa chi ha più soldi, i più ricchi. Certo. Perché? Non solo agevole i più ricchi ma anche i più furbi. La prescrizione decorre non dal momento in cui il reato viene scoperto ma dal momento in cui il reato viene commesso, il che vuol dire che per un pirla che si fa beccare subito la prescrizione è più breve, o meglio il tempo per processarlo è più lungo. Per invece il furbastro che nasconde il suo reato per molti anni e quindi lo consente di scoprire tardi è più fortunato perché il processo ci sarà meno tempo per celebrarlo. Quindi è un premio ai più furbi, quindi ai criminali più strutturati, più matricolati e anche per i più ricchi. Perché io per tirare in lungo un processo e mandarlo in prescrizione devo avere un sacco di soldi per pagare l'avvocato per un sacco di anni. Se io non ho i soldi e ho l'avvocato d'ufficio, quello col cavolo che con quello che prende dallo Stato mi porterà avanti il processo per duemila anni. Sei stato chiarissimo. È un'amnistia selettiva e razziale. Addirittura. Certo. Di classe sociale diciamo. Certo. Razziale nel senso che uno straniero ha molta meno possibilità di permettersi un avvocato che fa scattare la prescrizione è censitaria perché riguarda soltanto i ricchi e i potenti.